...è cominciato ieri, porterà più di 20 milioni di persone nel nostro paese, provenienti da tutto il mondo, ed è l'Expo, no? Ma a quell'Expo lì se ne accompagna un altro che è molto interessante, che si chiama Expo dei Popoli. Vi salvo, lei è il portavoce di questa Expo dei Popoli, che cos'è? L'Expo dei Popoli è il forum della Società Civile dei Movimenti Contadini che si riunirà dal 3 al 5 giugno 2015 a Milano in Fabbrica del Vapore ed è l'iniziativa di 50 ONG associazioni italiane in raccordo con 13 reti internazionali, società civile, movimenti contadini appunto, fra cui la Via Campesina, che vogliono colmare due vuoti che secondo noi ci sono creati in questa Expo. Il primo vuoto è terminato dal fatto che manca la voce dei contadini, allevatori e pescatori che oggi producono il 70% del cibo su scala mondiale, lo fanno in modo sostenibile e sono i nostri primi partner come associazioni ONG nel sud del mondo. L'Expo si è dimenticato di una fetta di... no, l'Expo ufficiale, tra virgolette. Beh, diciamo che si è abbondantemente distratto, ci sono ovviamente rappresentanze di agricoltori all'interno di Expo, abbiamo qui in studio poi un rappresentante illustre, ci sono dimenticati di quei contadini che sono di piccola scala e familiare, che sfamano il mondo e che spesso però soffrono le ingiustizie del di mercato e soffrono fame e malnutrizione. Roberto Moncalvo è il presidente della Coldiretti nazionale e voi siete ben presenti all'Expo, intanto la Coldiretti con le altre grandi organizzazioni, la CIA, la Confagricoltura, insomma rappresentate una popolazione di quanto? Beh, Coldiretti rappresenta il 70% dell'agricoltura italiana, quindi almeno 1.600.000 associati, 1.600.000 persone che vivono di agricoltura. Ecco, perché voi siete dentro l'Expo e non con loro, per esempio? Guardate, noi abbiamo fatto questa valutazione, Expo è una vetrina internazionale sul tema del cibo e quindi porta con sé tutti i modelli diversi di interpretazione della produzione di cibo che ci sono nel mondo e porta con sé tutte le contraddizioni anche con cui i cittadini e con cui gli agricoltori hanno a che fare tutti i giorni. Proprio per questo noi abbiamo deciso di volerci essere in modo profondo all'interno di Expo con un investimento importante in un padiglione di Coldiretti ma soprattutto con un obiettivo portare i volti degli agricoltori veri italiani che sono agricoltori che spesso famiglie, che fanno agricoltura, che difendono i territori e soprattutto portare attraverso le loro storie, attraverso i loro prodotti parlare di una questione fondamentale, di un modello di produzione di cibo di cui l'Italia è protagonista, che è un modello legato alla sostenibilità alla difesa dell'ambiente, alla tutela delle persone e ha un legame fortissimo con i territori e le comunità locali. Noi crediamo che questo modello di sviluppo che ha vinto in Italia e che oggi consente ancora di avere moltissime famiglie che vivono di agricoltura in Italia sia il modello che l'Italia deve mettere a disposizione soprattutto di quei paesi poveri dove ancora i piccoli agricoltori spesso muoiono o comunque soffrono la fame. Questo è un paradosso che è insopportabile e crediamo che nella qualità del modello agricolo italiano che veramente possa fare scuola e possa diventare modello di confronto davanti a quasi 150 paesi che saranno così. Io vorrei coinvolgere nel discorso però che stiamo facendo anche in collegamento da Orvieto c'è Andrea Segre che tra l'altro è il fondatore del Last Minute Market cioè l'inventore della battaglia contro lo spreco alimentare insomma sia in Europa che in Italia. Lei è a Orvieto, scusi Segre perché cosa? Perché cosa fa Orvieto? Beh sono stato invitato da Susanna Tamaro, la scrittrice credo molto nota che ha organizzato un ciclo di incontri un po' fuori dai festival diciamo molto meditati dal titolo generale Verrà un giorno riflessione sul giudizio universale ecco io ho trattato il tema Verrà un giorno in cui la nostra società sarà senza sprechi alimentari ecco diciamo un titolo un po' provocatorio che peraltro si lega molto bene a Expo e al diritto al cibo perché è una sorta di comandamento è un'azione preliminare preventiva prima riduciamo se possibile eliminiamo lo spreco di cibo e poi pensiamo ad aumentare la produzione perché il mondo sta crescendo e ha bisogno di cibo. Ecco però guardi qui abbiamo in studio Di Salvo che è il portavoce dei diciamo così dei movimenti appunto che in tutto il mondo insomma si stanno muovendo e che rappresentano un po' l'Expo dei popoli lo chiamano loro un po' alternativi dall'altra parte invece diciamo così quelli che rientrano nel grande calderone dell'Expo ecco ma ci può essere una via che mette insieme i due fronti perché ci deve essere una spaccatura una visione così diversa dello sviluppo dell'agricoltura che poi porta a nutrire il pianeta in maniera diversa Ma è un po' la tesi che ho cercato di sostenere oggi se vogliamo nutrire il pianeta innanzitutto abbiamo bisogno di agricoltori di contadini di imprenditori agricoli perché c'è un livello diciamo di sviluppo di conoscenza molto diverso e di buone esperienze, di buone pratiche però non possiamo pensare di nutrire il pianeta da una parte con il cibo alto che deve essere una visione che troppo spesso vediamo spadellato da qualche parte mi si perdoni diciamo questo termine poco scientifico forse ma soprattutto tanto cibo spazzatura di basso livello che peraltro finisce e questo è lo spreco nella spazzatura ecco dobbiamo arrivare a un cibo medio che nutre il mondo e peraltro noi però parliamo della nostra area non è tutto il mondo abbiamo un esempio straordinario il cibo medio che il cibo mediterraneo è proprio lo stesso etimo in realtà che ce lo dice e pensate che il nostro paese è quello che pur essendo la culla la patria la sede della dieta mediterranea perché è stata studiata da noi in tutti i suoi aspetti sia ambientali che di salute siamo il popolo che è il più lontano nella dieta nostra attuale da quella mediterranea quindi torniamo lì ci deve essere un denominatore comune che parte da Expo diritto al cibo garantito sano nutriente sufficiente come ben scritto nella carta di Milano e soprattutto per tutti educazione alimentare siamo molto maleducati questo è il dato di fondo senti io volevo però mandare se è possibile lo chiedo alla nostra regista Mia Santanera avevamo preparato un contributo sulle testimonianze perché l'Expo dei Popoli ha avuto un percorso insomma arriverà a giugno con la sua tre giorni importante però ha avuto un forum importante anche a Napoli dove abbiamo raccolto queste testimonianze? Sentiamo quello che è uno scandalo può diventare un'opportunità i grandi sprechi dei paesi sviluppati possono diventare con le nuove tecnologie e le conoscenze che abbiamo la svolta e rappresentare una grande opportunità per combattere la fame e per salvaguardare l'ambiente con meno sfruttamento per lo stesso i motivi per i quali avevo accettato di aderire a questa iniziativa era l'idea che il sud del mondo fosse in qualche maniera preservato protetto ospite d'onore in una manifestazione come questa che ci fosse attenzione alle esigenze di chi il cibo che noi mangiamo lo produce lo fa lo realizza e spesso non arriva neanche a mangiarlo fondamentalmente mi sembra una grande fiera di food and beverage in cui l'alimentazione del pianeta è intesa come il magna magna c'è cibo sufficiente per sfamare 11 miliardi di persone noi siamo 7 miliardi quindi dal punto di vista puramente teorico sfamare 7 miliardi di persone è facile allora il fatto che un miliardo di questi 7 miliardi soffra la fame non dipende dal fatto che non c'è da mangiare dipende dal fatto che non hanno i soldi per comprarlo in realtà è difficile spiegare ai bambini del terzo mondo perché qua siamo tutti obesi e là sono tutto sicca è difficile spiegargli perché non c'è una spiegazione perché bisogna ricorrere a delle invenzioni culturali bisognerebbe ricorrere a delle forme legate alla latitudine perché uno che è nato alla latitudine più bassa dovrebbe avere meno diritti di chi è nato alla latitudine più alta allora a che si può ricorrere per spiegare una cosa di questo genere al denaro perché come si fa a spiegare a uno tu sei povero non mangi io sono ricco mangio ininterrottamente non è quindi anche questa una buona spiegazione che altra spiegazione si può utilizzare nessuna non c'è nessuna spiegazione da poter dare a un bambino che sta morendo di fame nessun grumo di parole che possa nessun modo giustificare quello che sta accadendo di salvo portavoce dicevamo dell'expo dei popoli allora la sintesi che ha fatto è perfetta insomma ma qual è la vostra proposta alla carta diciamo così di Milano che cosa corrisponde? ma la carta di Milano è una lista di principi assolutamente condivisibili dove però che però sconta un grosso problema secondo noi il problema è di mettere tutti sulla stessa barca cittadini imprese transnazionali governi tutti sulla stessa barca quindi senza dare le rispettive responsabilità il problema a cui si riferiva Giobbe è che oggi fame e povertà non si vincono di sicuro con iniezioni di tecnologia iniezioni di mercato fame e povertà sono problemi politici che è necessario di risposte politiche e risposte politiche derivano dal fatto che la filiera agroalimentare dal campo al piatto scontra tutta una serie di concentrazioni di potere nelle mani di poche multinazionali che vanno in qualche modo normalizzate altrimenti c'è un problema di democrazia e del cibo e per questo i movimenti contadini internazionali hanno conato il termine sovranità alimentare la sovranità alimentare cioè il recupero della possibilità di scegliere cosa produrre come produrre a chi indirizza la produzione agricola ma anche come consumare quindi uscendo dall'illusione che noi siamo libri di scegliere quello che consumiamo quando mangiamo questo è quello che noi metteremo al centro della tre giorni è quello che diremo forte al mondo amiamo al 3-5 giugno quindi fame e povertà sono problemi politici che richiedono soluzioni politiche e quindi decisori politici che si assumono responsabilità quando il Papa dice questa economia uccide non lo dice a caso ci ha ben riflettuto se questa economia uccide è perché ci sono delle politiche aziendali e politiche o non politiche governative che creano delle vittime che sono le persone che muoiono di fame le persone che sono malnutrite le persone che sono violate che hanno dignità di contadini le persone che non vedono non hanno un tribunale a cui rivolgersi più alle violazioni di diritti fondamentali quindi a noi sua civile aspetta denunciare questi assassini dar voce a queste vittime e a decisori politici aspetta prevenire nuovi assassini e dare un rimedio legale a queste vittime le responsabilità sono differenziate una carta di miano mette tutti nella stessa barca e una carta fino a se stessa è